Via eh! Ora, sto veloce, dai! Ma io vedo bene! Ora qui, cerco da vedere Questa è quella famosa Ecco, io mi lascio vedere i passi Ora si manda i passi a tutti Allora, poi, adesso, quarto Sarebbe chiesa adesso Questo sarebbe chiesa Chiesa Con la sua notandina Sì, se io vince? Sì, se io vince No, questo anche L'abbiamo sbagliato Prova, io gli ho messo una cosa E' male? Io gli ho messo una cosa Ho fatto casino? No, come mai ho fatto casino? Guarda, torna al dietro e guarda se ci vediamo Questo è il chiesone Ecco l'altro